Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. In apertura la politica è ancora a stallo nel centrodestra per la scelta del candidato alla presidenza della regione Puglia. Nelle prossime ore dovrebbe riunirsi il tavolo di coalizione per trovare l'intesa. Alessandra Bucci. Francesco Scrittulli al momento resta un giocatore solitario in campo in attesa di una squadra che lo appoggi per giocare la difficile partita delle regionali ma secondo i ben informati servirà altro tempo prima che il centrodestra trovi l'intesa. Per ora l'unico ad aver rotto l'indugi è nuovo centrodestra che ha ufficializzato il sostegno all'oncologo ratificato anche da Roma. Un dato certo l'unico ad oggi è l'archiviazione definitiva delle primarie troppo tardi ormai. Il tavolo di coalizione annunciato per domani dunque dovrà trovare la convergenza sul perimetro delle alleanze prima e sul nome del candidato poi. Impresa Ardua considerando che c'è la grande incognita del posizionamento dell'Udc che a livello nazionale stringe un patto con nuovo centrodestra per poi sfilarsi in Puglia giurando sostegno emiliano. Raffaele Fitto domani sarà in provincia di Bari per serrare le fila del partito a livello locale ma non parteciperà al tavolo di coalizione. L'euro parlamentare lavora dietro le quinte e deciso a sfilarsi dalla scelta del candidato alle regionali per timore forse di inciampare in una nuova sconfitta. L'incontro di sabato scioglierà la quadra? Francesco Scrittulli sceso in campo prima di tutti rischia di perdere quel vantaggio che si era conquistato sul centro-sinistra. Bisognerà spingere sull'acceleratore l'appuntamento con le urne e dietro l'angolo. E ancora in corso l'incontro tra istituzioni sindacati e l'azienda cieca DT che potrebbe decidere le sorti dei centodipendenti di Bari Fonderie Meridionali. Il servizio è di Serena Russo. Siamo in difficoltà a mantenere il presidio perché ogni giorno servono anche i soldi per la benzina per poter presidiare là. Oltretutto inizia anche a far freddo a sera, a dormire in macchina. Speriamo che si concluda qualcosa di positivo invece oggi, altrimenti la situazione degenerebbe. Non ce la fanno più i centodipendenti di Bari Fonderie Meridionali. Da troppo tempo oramai in presidio fisso davanti ai cancelli dell'azienda. Chiedono risposte, le chiedono subito. Non c'è più tempo. Soldi non ce ne sono più, così come poche sono rimaste le speranze per il loro futuro. E questa mattina erano tutti lì nella sede dell'assessorato regionale al lavoro dove ancora è in corso l'incontro tra assessore Leo Caroli, sindacati e vertici dell'azienda cieca che potrebbe davvero fare la differenza. Ecco cosa chiedono. Noi ci aspettiamo che l'azienda venga con ragionamenti che da un punto di vista possono dare risposte al bisogno dei lavoratori di una copertura di ammortizzatori sociali e insomma che si dia un reddito ai lavoratori. E questo è un primo pezzo del ragionamento che abbiamo già più volte fatto presente, a cui l'azienda già la volta scorsa era disponibile. Ma ancora più oggi abbiamo bisogno che gli stessi lavoratori, quindi le organizzazioni sindacali si dia un valido ragionamento che faccia capire a noi lavoratori che si sta tutti lavorando per la ricollocazione dell'azienda sul mercato. Insieme a loro anche il Comune di Bari. Sì, il Comune di Bari sostiene con forza questa vertenza in atto, siamo stati presenti in tutte le trattative in corso da mesi e ci auspichiamo che oggi venga risolta questa vertenza. L'apertura prolungata nei mercati coperti non piace agli operatori dell'ex manifattura tabacchi. Sentiamo perché in questo servizio. Non è bastato l'accordo con le sigle sindacali, tantomeno l'ambizione di contrastare l'egemonia dei centri commerciali. L'orario non stop dalle 7 alle 19 nei mercati coperti non convince molti degli operatori. Nell'ex manifattura tabacchi la notizia dell'apertura prolungata solleva ancora un'anime di no. I giorni normali non stiamo facendo niente, figuriamoci se facciamo il giorno prolungato. Perché è una stupidata. È perché comunque non viene nessuno il pomeriggio qui a Spenda. Già hanno paura di venire la mattina, figurate il pomeriggio. No, perché già la mattina non si fa niente. Il pomeriggio qui poi non cammina nessuno. Prima di voler fare questa soluzione, secondo me, bisogna dare una bella, ristrutturata questo mercato, perché è fattiscente. No, perché oramai i primi mercati non si possono più contrastare. Stanno aperti 365 giorni l'anno e fanno dei turni. È impossibile contrastare. Come avragia di caluneco. Gli utenti invece salutano con favore l'iniziativa che permette di conciliare ritmi vita-lavoro. Non so se mi piace o meno. Si può esserlo per chi lavora. Va bene come oraro. Uno esce da lavorare due, va al mercato, fa la spesa, c'è più tempo. Sorpresa l'assessore al commercio Carla Palone. L'accordo spiega è stato sollecitato dagli stessi operatori e annuncia un nuovo sopralluogo per confrontarsi sulla sperimentazione. Proviamo, proviamo adesso per il mese di dicembre, poi faremo una sperimentazione per sei mesi e capiamo insieme cosa fare. Sicuramente l'amministrazione non vuole imporre nulla, ma per noi era un motivo di aiuto, in soccorso a questa crisi che realmente c'è. A guato questa mattina intorno alle 9 in strada a Santa Caterina Bari, nei pressi dell'Ipercop, un uomo di 66 anni, Giovanni Cardone, titolare di una ditta di autodemolizioni, è stato ferito alla gamba destra da alcuni proiettili. A sparare, secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia, sarebbero stati due uomini a bordo di una moto. I sicari sarebbero entrati nel cortile del Capannone. Uno dei due avrebbe intimato i presenti di star fermi, mentre l'altro avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione della vittima. Cardone avrebbe prima tentato di reagire, poi si sarebbe accasciato sul pavimento a causa dell'emorragia. Sul posto la polizia scientifica ha ritrovato sette bossoli di una pistola calibro 9. Sull'accaduto sono in corso e in dagini della squadra mobili. Piazza Massari è stata finalmente riconsegnata ai baresi questa mattina, la riapertura dello storico giardino, che ospiterà uno dei mercatini natalizi del primo municipio. C'è voluto molto tempo, però avevamo preso l'impegno di aprire per il periodo natalizio, perché il 6 dicembre e fino a 6 gennaio questa piazza sarà la sede di uno dei mercatini natalizi, con i prodotti tipici. Siamo riusciti a mantenere questo impegno. È dovuto passare un anno e mezzo dalla data di consegna, prevista inizialmente per agosto 2013, ma alla fine è successo. Piazza Massari è stata riconsegnata ai baresi. Abbiamo rifatto completamente la pavimentazione, rifatto l'impianto di illuminazione, rifatto e modificato. Prima c'era un unico allineamento, adesso ce ne sono due di pali di illuminazione separati, in modo tale da rendere disponibile lo spazio centrale, come se fosse un grande corridoio mercatale. E dentro domani sarà anche completato l'allestimento sulla piazza nuova di Zecca dei 24 gazebo che comporranno il mercatino di Natale, tutto rigorosamente bianco e che sarà inaugurato il prossimo sabato. Work in progress anche per i mercatini, sulla muraglia dove sono previste invece le casette e su piazza Cesare Battisti. E poi l'annuncio dell'assessore. Manca l'ultima parte, in realtà è una parte complementare e aggiuntiva che è stata aggiunta in corsa. L'intervento originario della piazza si limitava soltanto alla parte alberata e escludeva la parte di Niccolò Piccini che è stata poi successivamente estesa. Questa parte comunque vedrà continuare i lavori nei prossimi giorni, lavori che si concluderanno entro il periodo natalizio. Presentata questa mattina la quinta edizione del Festival Suggestioni di Puglia a Mosca. Importante evento culturale che Telebari seguirà per voi a partire dalla prossima settimana. Ce ne parla Roberto Maggi. Un ponte culturale tra Italia e Russia per portare l'arte pugliese a Mosca. Inizierà martedì 9 dicembre Suggestioni di Puglia a Mosca. Il festival organizzato dal Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo per promuovere i rapporti bilaterali tra i due paesi. La quinta edizione rivestirà un particolare significato considerate le tensioni internazionali dell'ultimo periodo. Proprio per questo la cultura può rappresentare ancora una volta l'occasione per l'incontro di due popoli accomunati dalla figura di San Nicola. Una settimana di appuntamenti che Telebari con la partnership del Teatro Forma seguirà direttamente a Mosca e che vedrà la partecipazione di artisti pugliesi. In prima fila il pianista jazz Mirko Signorile e il pittore Vincenzo Mascoli. Proprio la cultura può essere la migliore testimonianza di pace tra due popoli inscindibilmente legati come ha spiegato Rocchi Malatesta direttore generale del Cesvir. Siamo consapevoli che la città di Bari la città di San Nicola la città della pace tra i popoli possa rappresentare anche attraverso il suo festival dell'arte pugliese a Mosca un momento di grande dialogo di grande rappresentanza di quello che deve essere il futuro e cioè un popolo che dialoga attraverso la cultura anche che parla di progresso e di sviluppo. Il 5 dicembre si celebra a San Nicola con una festa tutta dedicata ai bambini in occasione della presentazione dell'evento è tornato a Bari il reverendo James Rosenthal uno dei maggiori esperti del Santo di Mira il servizio di Barbara Cirillo. Che sia San Nicola o Santa Claus il Vescovo di Mira il 6 dicembre viene festeggiato in molti paesi del mondo ed essendo il Santo Patrono di Bari perché non pensare anche ai bambini della città. L'idea della Fondazione Mirabilia è che il 5 dicembre ha previsto un pomeriggio speciale davanti al Sagrato della Basilica con il patrocino del Comune di Bari della Camera di Commercio della Regione Puglia e della Basilica Pontificia di San Nicola dalle 17 alle 20 grazie all'aiuto dei partecipanti sarà realizzata una grande immagine luminosa del Santo disegnata dall'illustratrice Vittoria Facchini il tutto accompagnato da una buona tazza di cioccolata calda. A presentare l'evento è il reverendo James Rosenthal presidente della Saint Nicola Society che questo pomeriggio si è divertito ad elencare le parole italiane che conosce meglio Barolo Chianti Spumanti Prosecco Gelati e Bari Bari chiama padre Rosenthal risponde lui chiama profondamente una città che merita di essere conosciuta in tutto il mondo E aspettando San Nicola può essere un buon punto di partenza per il rilancio dell'immagine della città come ha dichiarato l'assessore al welfare Francesca Bottalico ricostruire l'identità di Bari e dei bambini attraverso San Nicola credo che sia un'ottima occasione anche per rilancio proprio di un'identità collettiva della città di Bari si riparte insomma da Bari e dei suoi bambini di cui San Nicola è protettore Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore cielo poco nuvoloso temperature comprese tra 12 e 19 gradi venti moderati mare poco mosso in chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it radiobari.net e info chiocciola il segno di zorro punto it il telegiornale finisce qui grazie per averci seguito più tardi con l'informazione di Telebari grazie per averci seguito